Renault presenta Broadway Line. Potenza, grinta e il piacere del gran compo. Renault Broadway Line, 1.2 benzina e diesel 1.6. Dai concessionari Renault veri vantaggi per chi paga in contanti, oppure anticipo IVA emessa su strada e 48 rate da 292.000 lire. Renault 9 Broadway, Renault 11 Broadway e i loro fantastici prezzi.